No, la portano uno al maestro Vediamo la protezionalità del maestro se riesce Senta il richiamo, senta il richiamo Senta il richiamo No, me l'ho avendo il culo No, è lì c'è uno dei camori Caronissimo No, l'hai preso uno al maestro? No, dai, vediamo se riesce Levanto tutti i subifferi Vediamo se Ah, bucci con ricetto C'è scappolo due No, vaffa tu, c'è scappolo due Senta, senta il bucci con ricetto Che fai a nato? Che fai stare a fumare? Ma che? No, 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 adesso devo passare a Manuel No, no, passare a Manuel E' tappato Il cazzo Ma cazzo c'è andato io, il cazzo E poi lui si è andato tutto A Manuel Ma vado io l'ho avuto a Manuel Vediamo che cazzo fai Guarda, oh Rida, c'è andato a moglie Cominci a strisere Ecco, la moglie è morta io Fai a me Grazie.